Buongiorno a tutti, 22 ottobre 2018, avevamo un po' la nostalgia dell'estate e quindi ci siamo per questa volta spostati in trasferta. Il warm-up di oggi, 750 metri raw, il Borgner warm-up fatto con il PVC e il Borgner warm-up fatto con il bilanciere, perché subito dopo dovremo andare a trovare un heavy set di snatch. Fatto questo, ancora una volta lo snatch protagonista, oggi praticamente solo snatch, infatti avremo Isabel, ovvero 30 snatch for time. Pesi e tutto il resto come al solito qui sulla grafica, che non so dove compare oggi perché è vuoto, messi strani. Comunque, a domani e buon vuoto.